Il Chieti per consolidare il proprio primato in classifica e il Renato Curi angolana per muovere altri passi in direzione salvezza. Sono questi gli obiettivi delle due contendenti che si affrontano allo stadio Guido Angelini. Teatini reduci dal successo infrasettimanale contro il Nereto con il conseguente accesso in finale di Coppa Italia regionale per la squadra di Mister Lucarelli che schiera in attacco Toro supportato da Miciche e Delgado. Negli ospiti invece il tecnico Deugenio si affida in avanti alla fisicità di Bizzarri e alla velocità di Indiaie. In avvio di gara è il Chieti a rendersi insidioso per primo con un tiro cross di Farindolini che non trova fortuna. Dall'altra parte ci pensa Alonzi a metterci una mano sul pallone messo in mezzo da Malocu in proiezione offensiva per una Renato Curi angolana che al decimo minuto si rende pericolosa con la conclusione di Bizzarri respinda in volo da Alonzi. Il Chieti fatica a trovare Varchi nella metà campo avversaria mentre la Renato Curi angolana è sempre pronta ad agire in ripartenza alla mezz'ora e proprio la formazione ospite a non cogliere l'attimo con Bizzarri che calcia alto da buona posizione. Prima dell'intervallo il Chieti intensifica i ritmi e quando il gol sembra cosa fatta è abate a metterci una gampa sulla zampata di Toro. Lo stesso numero uno ospite poi si fa trovare pronto prima sulla conclusione bassa dell'attaccante teatino Miciche e poi sulla stoccata di Delgado che deve rimandare l'appuntamento con il gol. Nessun cambio nell'intervallo, la ripresa inizia con il Chieti in avanti alla ricerca di un gol che però non trova d'accordo il portiere angolano Abate provvidenziale su Toro. Gli ospiti non stanno a guardare e subito dopo è Alonzi a dire di no allo sgusciante Ndiaye. Il Chieti ci riprova al 66esimo, ottimo l'appoggio di Toro per Miciche che davanti la porta non riesce a calciare in gol. La Renato Curi angolana appena può prova a pungere come quando Pompei sfiora il bersaglio grosso facendo correre un brivido sulle schiene neroverdi. All'87esimo il Chieti gonfia la rete ma sulla conclusione di Rodia la seconda assistente di linea giudica Miciche davanti la linea della palla strozzando in gol l'urlo di gioia al pubblico teatino. L'ultimo tentativo dei parroni di casa arriva con Miciche che però non trova la porta della Renato Curi angolana che esce imbattuta dal guido Angelini di Chieti con uno 0 a 0 accolto così dai due allenatori Nico De Eugenio e Alessandro Lucarelli. Sì sicuramente abbiamo fatto la nostra partita, i ragazzi hanno interpretato la gara nel modo migliore e soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto molte ripartenze, qualche conclusione di poco fuori e qualche decisione sbagliata negli ultimi 20 metri. Quindi partita giusta, certo facciamo un po' fatica a concretizzare la mola di gioco anche oggi perché secondo me c'erano gli spazi anche per fare male però la squadra chiaramente il Chieti è una squadra fortissima, secondo me la migliore quindi devo dire brava ai miei ragazzi. Mister Lucarelli 1 a 0, non è arrivata la vostra quinta vittoria consecutiva, salite in classifica ma non secondo le vostre intenzioni. Beh noi questa settimana comunque è stata una settimana positiva, veniamo fuori da due vittorie di seguito, un passaggio del turno in Coppa, abbiamo acquistato la finale di Coppa, oggi primo tempo la prima mezz'ora non benissimo l'approccio, forse i ragazzi pensavano che il campo stesse meglio perché parlavano gli spaziatori dicendo che il mercoledì si è giocato meglio. In realtà poi ci siamo dovuti adattare, abbiamo cambiato qualcosa e penso che nel secondo tempo ce l'abbiamo messa tutta per provare a vincere la partita e quindi ragazzi non vi posso rimproverare veramente nulla, in altra occasione avremmo perso questa partita.